Si annuncia come la più affollata di sempre, la riunione leghista di Pontida richiama almeno 300 persone da Vicenza. La linea dura di Salvini su profughi e sicurezza sta premiando anche la Lega di Governo. Il prato di Pontida domani è destinato ad accogliere più popolo di quanto si sia mai visto. Dal Vicentino partono i pullman e dopo alcuni anni tornano anche i giovani. Da Vicenza domani partiranno 7 pullman con oltre 300 persone. Oggi invece partiranno i giovani che stasera parteciperanno alla tradizionale festa dei giovani della Lega. L'entusiasmo popolare che è destinato a portare tanta gente comune a Pontida è particolarmente singolare se si pensa che proprio la Lega potrebbe scontare l'handicap di essere diventato asse centrale del governo. Sicuramente il progetto di Matteo Salvini è stato carico di aspettative. Abbiamo vinto queste elezioni politiche per cui adesso la gente si aspetta che noi manteniamo le promesse. Questo è un motivo per cui la Lega crea passione perché cerca di portare avanti con responsabilità le promesse che ha fatto gli elettori. Evidente che la linea dura di Matteo Salvini paga e probabilmente è destinata a produrre effetti anche sul medio periodo. La lotta all'immigrazione clandestina, la sicurezza, il decoro urbano, la legittima difesa sono questioni che ci vengono fortemente poste dal nostro elettorato. Noi vogliamo rispettare le aspettative che loro sicuramente hanno per cui cercheremo di dare massimo per portare a casa risultati che faranno bene per il Paese.